un po' aspettiamo un po' e intanto vi faccio vedere tutte le nostre figurine dopo allora aspettiamo un po' perchè io vi voglio fare molto per bene vi voglio fare vedere molto per bene questa cosa perchè sono molto contenta bla 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 poi ci sono i pezzolini wow perchè l'hanno fatto delle volte qua c'è un scegno da ripassare qua c'è lui qua c'è lui da ripassare sui codetti poi guardate qui qua sotto poi venite qua venite con me mi è venuto questo se vedete molto bene se lo girate di la è sempre lui adesso poi mi è venuto anche questo molto bene una volta questa parte della testa è la mia tartaruga come vi ho detto qua qua anche qua la mia tartaruga è molto carina devo dire poi qua c'è la mascherina è molto riccosa questo non ci vuol dire niente lo possiamo buttare poi qua c'è la mia tartaruga qua c'è la mia tartaruga vi faccio vedere questo perchè è troppo bello guardatemi mi dice numero uno numero due numero tre numero sei numero cinque numero quattro poi sono tantissime cose qua c'è il poster qua ci sono i cosi aspetta che l'apriamo così coloriamo un po' solo un goccio allora il rosa un arancione bene andiamo a colorare è la tartaruga sicuramente non la coloriamo no 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 si coloriamo qua lui va bene va bene qua vi avevo fatto vedere prima le talpe questo bla 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 questo qua poi topolino con topolino ciao a tutti ciao